Allora, perché che stai facendo? Alceppo classico! Classico! Allora! io volevo appoggiare la moto alla pianta invece l'ha appoggiata in terra quello lì a me guarda oggi mi sta cosa stai facendo lo stai facendo prendi l'accendino 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 dove è sbagliato dove è sbagliato quando sei arrivato qua le hai dato ancora al posto di tirare le braccia le allungate le allungate è già buona che hai preso la pianta è già buona stai lì in bilico però la riga mi ha dato io la voce qui Grazie a tutti.